Paola Cardelli, questa battaglia dei dipendenti di Tercop a rischio, come si sta svolgendo e quali sono le prospettive, se ce ne sono soprattutto? Le prospettive sembrano sempre più nere perché adesso siamo arrivati addirittura a una determina che rasenta l'illegittimità in quanto si richiede come requisito per la partecipazione a una gara un fatturato globale di 2.370.000 euro che tra l'altro la Tercop non può dimostrare di avere e tra l'altro invece l'amministrazione per legge dovrebbe motivare questa richiesta di questo fatturato e è una facoltà quella di richiederlo perché l'amministrazione può anche non chiedere alcun tipo di fatturato perché già ha chiesto il fatturato per il servizio specifico svolto dalla Tercop proprio per il servizio del parcheggio e dove la Tercop rientra tranquillamente in quello richiesto quindi questo ulteriore fatturato globale non è stato motivato, è esorbitante e quindi probabilmente è illegittima questo modo di porlo in più abbiamo anche il fatto che il valore della concessione è dato da un calcolo che l'amministrazione ha fatto il valore però è stato raddoppiato perché nel bando si prevede la possibilità di proroga, di rinnovo è indubbio che la nostra presenza qui rappresenta sia una manifestazione di solidarietà e di sostegno rispetto ai lavoratori di Tercop ma rappresenta anche un'assunzione di responsabilità per non essere stati in grado ovviamente con i dovuti distinguo la maggioranza ha delle responsabilità molto più enormi, l'ex maggioranza ma anche sul fronte dell'opposizione per non aver risolto nei tempi opportuni e corretti una questione che si protrae con una precarietà enorme da troppi anni quindi c'è sicuramente un'assunzione di responsabilità da parte della politica e la presenza qui porta anche questo segnale Un bando restrittivo che presumibilmente mira ad escludere questa cooperativa ci sarà una possibilità di soluzione o comunque la nuova amministrazione tornerà nella revisione dei lavoratori di Tercop oppure sarà una situazione definitiva? Guardi noi abbiamo sempre chiesto questo cioè che la gestione dei parcheggi nel nostro territorio mantenga un carattere prettamente sociale quindi risponda ad un principio sociale così come è stato fino ad oggi